Una versione non verosimile, non credibile, quella dei due imputati. Martina Rossi non era impazzita, ma sfuggiva a un tentativo di stupro e sarebbe così scivolata e precipitata da oltre 20 metri, cercando di sfuggire ai suoi aggressori, Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, i due giovani di Castiglion-Fibocchi, condannati in primo grado a sei anni di carcere, tre per la tentata violenza sessuale e tre per la morte in conseguenza di un altro reato. Sono state infatti depositate le motivazioni della condanna per la morte della studentessa genovese, precipitata nell'agosto 2011 dalla finestra della stanza 609 dell'hotel Sant'Anna di Palma di Majorca. Qualcuno, secondo il collegio del Tribunale di Arezzo, deve aver tolto i pantaloncini a Martina. La studentessa, infatti, è caduta giù in slip. In camera c'erano solamente i due imputati, entrambi sul letto matrimoniale, sempre secondi giudici, proprio dove si sarebbe consumata la tentata violenza sessuale. Quei pantaloncini non sono mai stati ritrovati, sono stati invece riconsegnati gli occhiali, in questo caso totalmente ripuliti. Martina, quella notte, avrebbe cercato di reagire al tentativo di stupro anche con forza, granfiando il collo di Alessandro Albertoni. I segni, infatti, erano evidenti e ben visibili. Per i giudici è così inverosimile la versione data da due imputati, ossia che la ragazza, di punto in bianco, si è impazzita. La giovane stava bene, era felice e serena, non avrebbe inoltre assunto quella sera né stupefacenti né psicofarmaci, come confermato dalle analisi tossicologiche. Martina, sempre secondi giudici, sarebbe scappata sul terrazzo perché, ritenuta la via di fuga più facilmente raggiungibile, la studentessa, poi sotto sciocca, piedi nudi e senza occhiali, era miope, sarebbe caduta nel vuoto, riportando lesioni mortali nel tentativo di scavalcare e raggiungere il terrazzo vicino per chiedere aiuto. Un evento, seppur non previsto, né accettato né voluto dagli imputati, ma prevedibile ed evitabile. Pesano poi sui due giovani le intercettazioni ambientali e telefoniche e la testimonianza dei turisti danesi che confermerebbero la presenza di entrambi gli imputati all'interno della Camera 609 al momento del drammatico volo, sconfessando così quanto raccontato dai giovani a retini. La versione degli imputati, sempre secondo il collegio, sarebbe stata creata nell'immediatezza ma con lucidità una messa in scena per spiegare quanto successo, concordata per far così combaciare tutto. La difesa, come già annunciato, presenterà ricorso in appello.